Benvenuti al punto alfa, squadra d'assalto. Mettiamoci al lavoro. Qui è un vero casino. Esperimenti nazisti. Portali dimensionali. Non morti. Cazzo. Con la fortuna che ci troviamo, dovremmo comprare dei biglietti della lotteria. Le nostre fonti dicono che tutti i casino in giro per il mondo sono iniziati qui. Questo posto è l'origine di tutto. Squadra, trovate un ingresso. All'istante. Devi scusarmi. Non penso. Non penso. Non penso. Non penso. Non penso. the la non penso. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti